Amici di Live Social sono insieme al nostro ospite di oggi ovvero Gianluca Grasso che ci ha parlato della SD Atletica Tor Tre Teste e che saluto nuovamente quindi ciao Gianluca Buonasera a tutti, ciao Dove si trova l'associazione e a chi si rivolge ovviamente? L'associazione punta sull'attività giovanile, si trova a Tor Tre Teste presso l'impianto Antonio Nori in Largo Serafino Cevasco Siamo diversi tecnici, qualificati tecnici FIDAL, anche tecnici FISPES che sono gli accompagnatori per i non vedenti Sì abbiamo anche un nostro nutrizionista ma io voglio dire una cosa importantissima che tutta questa associazione che abbiamo creato è grazie a Davide Longo che è il presidente che ha creduto molto in questo progetto e che ci aiuta molto Da dietro le quinte perché lui si vede poco, si sente poco ma se non fosse stato per lui tutto questo non sarebbe possibile Grazie mille, ciao Gianluca Grazie, ciao a tutti